Io ho un problema, io non leggo i libri, li studio. Questo è un problema perché studiare i libri per me significa proprio mettermi ad analizzare quello che c'è all'interno, quello che dice l'autore, a volte anche singole frasi, e mi porta via un sacco di tempo. Così, quando il buon Bernardo Paoli mi ha regalato il suo parlare da Dio, ho pensato, anzi io proprio ho detto, grazie Bernardo, un altro libro da leggere! Devo dire che questo libretto di poche pagine, un po' più di un centinaio di pagine, si è rivelato molto interessante. Praticamente il libro è parlare da Dio, le dodici tecniche fondamentali della comunicazione, efficace a partire da un dialogo di Papa Francesco. Io pensavo che fosse una palla assurda in cui Bernardo andava a analizzare i discorsi di Bergoglio per trovare il suo nome di comunicare e invece ha fatto qualcosa di molto più interessante. Partendo da un dialogo di Papa Francesco, va a trovare quello che lui definisce le dodici tecniche fondamentali della comunicazione efficace. In pratica Bernardo è andato a trovare dodici elementi, dodici tipi di tecniche che sono molto utili per chi vuole apprendere come comunicare in modo efficace. Questo si rende molto utile per gli psicoterapeuti in generale e in particolare per i terapeuti brevi, dato che la comunicazione per noi è un elemento fondamentale nel lavoro con il paziente. Alcune già le conoscevo perché fanno parte del bagaglio culturale dei terapeuti brevi, per così dire. Altre le conoscevo perché ho letto altri libri di Bernardo, in particolare come parla un terapeuta molto 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 bello, e venivano già citate lì. Altre invece sono state delle piacevoli sorprese. Quindi quali sono alcune tecniche comunicative che i terapeuti brevi, in particolare, ma in realtà qualunque psicoterapeuta, può utilizzare per aiutare il suo paziente? Tra le dodici tecniche individuate da Bernardo ci sono gli aforismi. So che Bernardo peraltro fa un lavoro molto interessante sul come andare a creare degli aforismi efficaci. E gli aforismi effettivamente sono un'ottima tecnica comunicativa. Perché l'aforisma è quella forma comunicativa molto suggestiva, molto evocativa, capace di creare delle sensazioni nelle persone e di cementificare dei significati, andando a creare dei piccoli o anche grandi smottamenti che vanno a produrre un primo cambiamento significativo. Per esempio, di fronte a una persona che evita di pensare a delle emozioni, dei ricordi spiacevoli o qualcosa che gli genera sofferenza, ma per la quale è necessario entrare lì all'interno, andare a vedere quegli angoli sporchi della sua vita, si può dire, sai, come disse Emil Choran, per andare fuori ci devi passare dentro. Un'altra tecnica comunicativa molto efficace è la domanda a illusione di alternative. Di questa già ne parlava Paul Watzelwyck all'interno, credo, della pragmatica della comunicazione umana e anche del linguaggio del cambiamento. E peraltro c'è una distinzione tra la domanda a illusione di alternative e la domanda a illusione di alternativa. La domanda a illusione di alternative, al plurale, è appunto una domanda che ti pone due alternative illusorie, nel senso che per il terapeuta tanto una quanto l'altra sono uguali. La più tipica è quella che Milton Erickson utilizzava con i suoi pazienti per indurli ad andare in trance e diceva vuoi andare in trance adesso o più tardi? Oppure diceva anche vuoi andare in trance su quella poltrona o su quella sedia. In realtà in tutti e due i casi, comunque l'implicito era che la persona sarebbe andata in trance. non era importante che cosa avrebbe davvero scelto. Le alternative erano indifferenti. Invece la domanda a illusione di alternativa al singolare è una domanda dove io ti pongo effettivamente due alternative ma la seconda o la prima in realtà non è proprio un'alternativa praticabile. Per esempio di fronte a una persona che sta avendo dei comportamenti completamente distruttivi o dannosi per se stessa o per gli altri gli si può chiedere che cosa vuoi fare? Vuoi continuare anche domani ad avere questo tipo di comportamenti e a proseguire la tua vita in questo modo o pensi che sia necessario iniziare a mettere in atto qualche piccolo cambiamento? È un'illusione di alternativa perché sì, ti sto dando un'alternativa ma in realtà è molto improbabile che tu scelga la prima. In realtà su questo peraltro Bernardo fa un ampliamento perché lui parla non tanto di domande, non unicamente di domande di illusione di alternativa ma proprio domande con alternativa di risposta ampliando un pochino l'ambito in maniera abbastanza interessante. Un'altra cosa che va a analizzare è che a mio parere è molto sottovalutata sono le parafrasi. In pratica quello che fa è andare a vedere come si possono riparafrasare e riprendere le cose che la persona ci ha detto mettendo delle piccole differenze. E Bernardo dice una cosa molto interessante cioè che le parafrasi sono una delle tecniche comunicative più conosciute ma probabilmente una delle meno utilizzate. Il fatto è che noi ci teniamo tanto a dire la nostra opinione o a usare delle tecniche particolari perché ci sembra che abbiano più effetto che siano più efficaci però in realtà ci dimentichiamo che spesso il semplice è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Già il fatto di riparafrasare qualcosa che ha detto la persona di riprendere le sue parole chiedendogli magari un accordo è questo che stava intendendo fa sì che la persona raggiunga con noi una relazione più forte in più fa sì che noi con lei possiamo essere sicuri di stare andando sulla stessa strada. In più possiamo anche andare ad inserire delle piccole differenze all'interno della parafrasi per esempio se la persona ti dice ho vissuto questo enorme problema e tu gli restrutturi come vediamo se ho capito bene ti sei trovato di fronte a questa difficoltà hai ridotto un pochino la portata della sofferenza che la persona ti ha presentato e se lei accetta cosa che non è scontata quello che tu gli hai presentato avrà dato un nuovo significato. Ovviamente come detto non è scontato e tu non devi forzarla nella tua parafrasi però ti può dare un'idea di come possiamo usare la comunicazione per cambiare il significato della realtà della persona. Insomma ci sono altre tecniche, dubbi, paradossi molto interessanti e il libro si presta per fartele capire in una maniera piacevole e scorrevole. Che tu sia un terapeuta breve o che tu sia un terapeuta che vuole essere bravo sicuramente andare a studiarti la comunicazione deve essere uno degli elementi fondamentali del tuo lavoro perché alla fine è la cosa principale, lo strumento principale con cui lavoriamo. E il libro di Paoli devo dire che è un'ottima lettura, semplice, introduttiva però significativa peraltro con una serie di spazi dedicati a delle esercitazioni per far sì che tu possa essere un terapeuta capace di parlare da Dio.